Presidente, il suo predecessore ha parlato di cambiamento, ha chiesto un impegno forte da parte sua anche dell'attività, della vita pubblica di questa città e di questa regione? Sì, di fatti è uno dei motivi importanti, la possibilità di incidere anche nel pubblico, un cambiamento che comunque già il mio predecessore ha iniziato e quindi ha detto dobbiamo accelerare perché dobbiamo veramente modificare e cambiare. Alcuni temi che vorrà trattare da subito quali sono? Turismo, agroalimentare, quindi per me il leitmotiv è veramente coinvolgere tutte le imprese o quando più imprese possibile che operano nella nostra Sicilia perché mi pare a me che la Sicilia è stata messa un po' da parte, ma la colpa ce l'abbiamo noi in prima persona. La parola d'ordine è stata cambiamento? Cambiamento non fine a se stesso, ma cambiamento secondo ciò che le circostanze richiedono. A volte è molto chiaro capire cosa bisogna fare e quindi bisogna soltanto fare.